bentornati bentornati sul sul canale notizie di notizie di mercato che riguardano e riguardano l'inter ce ne sono diverse anche se siamo solo nella primissima primissima mattina di mercoledì veramente il video programmato per uscire più in tardi non voglio assolutamente svegliarvi dalle vostre belle ferie in riva qualche qualche mare qualche specchio d'acqua però vedete la luce l'alba allora pizze di mercato accogliendo un po quelle che sono state le indiscrizioni tra tra ieri e quello che ho letto già un po sui sui giornali molto molto si parla delle cessioni alcuni alcuni esuberi altri un po meno esuberi magari potremmo chiamarli esuberi tattici più che esuberi in quanto tali per esempio per agumè ribattezzato da qualcuno agrume è quasi tutto è quasi tutto pronto per il suo ritorno al al civiglia non per due milioni abbastanza pochino eh di cui si parlava sembra quasi 5 milioni e una percentuale tra il 40 e il 50 per cento non si è capito bene alcuni dicono 40 alcuni 50 a me non è stato detto nulla quindi non so dirimere l'arcano eh vabbè diciamo il 45 poi ci tagliamo la testa al topo 45 per cento sulla futura rivendita poi bisogna vedere se e a quanto verrà rivenduto in futuro agumè però detto agrume però lo teniamo lì anche perché non è che ci potevi spillare più di tanto diciamocelo serenamente alcuni si sono un po' risentiti per i due milioni che qualcuno aveva scritto saranno di più ma non è che saranno di più decuplicato fanno due tre milioni in più massimo questo è quanto ci volevate cacciare da agumè con tutto il bene che ha finito sull'anno nell'under 21 da mo non è preso per nulla in considerazione della prima nazionale non è preso in considerazione dall'inter che poi di fatto è questo dove essere il nuovo qui il nuovo lì non almeno non secondo l'inter secondo quelle le speranze sono grandi addetti ai lavori eh si preconizzava un futuro alla Viera alla Desai alla Pogba qualcuno aveva a questa Pogba non c'entra niente ricordate che lo dissi subito ragazzi è un facitore di gioco un gestore un non è un Pogba non c'entra niente infatti purtroppo non c'entra niente anche a livello di qualità almeno finora poi io gli auguro di esplodere ma insomma dobbiamo risentirci se qualcuno valuta agumè 4 3 4 milioni questo l'altro l'altro esubero anche lui anche su Satriano Satriano anche di lui si diceva un gran bene per dirla alla Pizzul si parla di 6 7 milioni titolo definitivo come agumè per tornare al Brest qui ci sarebbe già l'accordo tra i club mancherebbe il placet di lo stesso Satriano che potrebbe dovrebbe arrivare nel gioco di poche ore e quindi un altro esubero e poi Valentin Carboni ormai lo sappiamo vita morti in miracoli di questa trattativa verso sempre più verso il Marsiglia addirittura oggi non ricordo se la gazzetta del Corriere Sport scriveva che ci saranno ben presto le visite mediche prima ancora del ritorno della fine delle vacanze perché lo sappiamo come Lautaro tornerà l'8 agosto in Europa e quindi sono tre diciamo che tra i 4 5 di Agumei 5 6 7 quelli che sono di Satriano e un milione di prestito oneroso con tutto l'ingaggio chiaramente sulle spalle del Marsiglia per Carboni si arriva a un tesoretto di poco oltre i 10 milioni questo tesoretto secondo qualcuno sbloccherebbe il mercato del si legge mercato dell'inter sblocca si sblocca il mercato inter si sblocca il mercato inter si sblocca il mercato si sblocca il mercato con il tesoretto e gli esuberi si fa spazio ma si sblocca chi perché poi noi veramente ormai andiamo a colpi di slogan no parliamo a colpi di slogan scriviamo a colpi di slogan temo anche che amiamo a colpi di slogan perché che cosa si deve sbloccare l'inter non c'ha niente di bloccato magari qualcun altro si ma l'inter non ha il mercato bloccato che si deve sbloccare l'inter ha fatto quello che doveva fare sia a livello di trattenere i pilastri corrinnovi o anche no sia a livello di puntellare quelle zone più sguarnite in base anche a chi è andato via quindi restano i dettagli almeno a livello operativo perché poi le idee sono molto chiare ma non c'è niente da sbloccare quando si parla di Arnatovic e Correa che bloccano l'arrivo ragazzi so chiacchiere sono chiacchiere una roba bloccata è una cosa ingolfata che non ti consente di agire in grande rapidità e sei con l'ansia l'anno scorso l'inter in qualche modo ha avuto effettivamente il mercato bloccato l'abbiamo visti quali sono i veri mercati bloccati dell'inter in questi anni no l'anno con Spalletti che non è riuscito a prendere un centrale ha dovuto adattare nella prima parte di stagione Sant'On vi ricorderete no a Firenze con Sant'On centrale poi alla fine presero il Licia no Licia si Licia come lo chiamano? difensore centrale argentino che fece mezza presenza in casa col Bologna banco mi ricordo il nome per farvi capire insomma Lopez Lisandro Lopez lui lo presero per veramente doveva andare a riempire un buco che sarà creato in rosa l'interno non ha buchi ah deve andare a prendere il sostituto di Buchanan poi l'inter vuole prendere un braccetto sinistro io avrei magari sarei andato su un altro profilo a livello di zona di campo però comunque parliamo comunque di un'alternativa no non è che parliamo di una colonna portante c'è ancora tutto il tempo del mondo quindi calma mi ricordo che il mercato vive il 30 agosto il giorno dopo il sorteggio del calendario di Champions peraltro fissatevi questa data 29 agosto sorteggio del calendario di Champions e quindi gli accoppiamenti perché non ci saranno i gironi ahimè ma ci sarà la scelta degli avversari e quindi insomma è comunque un sorteggio credo totalmente automatizzato non ci sarà l'estrazione delle pallette ma ci sarà uno che preghi un tasto un po' come il calendario di Serie A la differenza è che oltre alle date scoprirai anche gli avversari e poi c'è l'attaccante ma l'attaccante è molto semplice è Czarnatovic perché è questo io sarei veramente stupito se non fosse così è Czarnatovic entra l'altro attaccante non sono chi per lui ma mercato bloccato quando? perché altri vanno nel mercato bloccato questi termini utilizzatevi con altri l'Inter non è il mercato bloccato quello doveva fare l'ha fatto anche in entrata no? Gelinski, Taremi e il secondo portiere Martinez che dovrebbe essere è un candidato diciamo così a raccogliere l'eredità di Sommer nei prossimi anni ma quale mercato bloccato? Marotta che ieri ha parlato appunto anche di Carboni confermando insomma la trattativa è stato totalmente avanzato Marotta adesso è il mercato sbloccato no non è mai stato bloccato il mercato dell'Inter quest'anno non è mai stato bloccato saluto